A lutto il mondo del giornalismo agrigentino. Muore a soli 44 anni la giornalista e docente agrigentina Loredana Guida. Una lunga battaglia fra la vita e la morte che purtroppo non ha lasciato speranze per la giovane donna. Apprezzata professionista, da anni raccontava fatti e vicende dalle colonne del giornale di Sicilia e dal quotidiano online Agrigento Notizie. A spezzare la vita Loredana è stata una delle forme più violente di malaria. Ad essere fatale probabilmente il recente viaggio in Nigeria dove dopo il rientro la giovane donna avrebbe iniziato ad avere febbre alta e inappetenza. Sintomi che avevano portato la stessa a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sarebbe stato al suo secondo ricovero che i medici avrebbero individuato la malattia. Malaria terzana maligna che di solito si trasmette con la puntura ad una zanzara. Loredana sarebbe rimasta in coma fino alla notte appena trascorsa quando il suo cuore ha smesso di battere. Secondo quanto pubblicano le agenzie di stampa Loredana Guida si sarebbe recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con 39 di febbre. Ha subito riferito di essere stata in Africa e nonostante ciò sarebbe rimasta per circa nove ore in corridoio e poi ormai stanca ha firmato le dimissioni e se n'è andata. Poi i sintomi si sono aggravati e dopo cinque giorni Loredana svenuta a casa sua è stata trasportata in ambulanza ancora all'ospedale di Agrigento dove è stata ricoverata per una settimana in rianimazione. E finalmente è giunta la diagnosi. Malaria terzana maligna. Lo stesso ceppo, il peggiore, che il 2 gennaio del 1960 uccise Fausto Coppi. Anche lui vittima di una malaria non diagnosticata. Dall'ospedale di Agrigento i medici hanno ricercato posti in ospedali dotati di reparti di malattie infettive ma non ne sarebbero stati trovati. Un farmaco specifico è stato recuperato a Messina e condotto ad Agrigento. È stato troppo tardi. I funerali di Loredana Guida saranno celebrati domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 15 presso la chiesa di San Nicola, Fontanelle. La redazione di Studio 98 si stringe al dolore dei familiari.